Grazie a tutti Un'esperienza che io ho fortemente voluto dopo 4 anni all'estero La mia voglia era quella di tornare perché essendo crescito in Italia Comunque il desiderio è quello di confrontarsi a questo livello Quindi sono molto carico, emozionato Per me è un'esperienza davvero bella Forse che in realtà io consiglio molto perché in Svizzera danno molta fiducia ai giovani E' molto strutturato in questo senso Quindi è stata un'esperienza molto formativa per me Poi ho avuto allenatori con diverse influenze Perché comunque la Svizzera, ho avuto l'allenatore svizzero-francese, l'allenatore spagnolo Quindi è stato un mix di esperienze che mi ha arricchito tanto Mi ritengo un centrocampista tecnico, intelligente Chiaramente pago un po' da un punto di vista fisico Però poi la collocazione in mezzo al campo è relativa Il mio ruolo naturale è quello di play ma posso fare tutti i ruoli al centrocampo Io non cercherò mai e non sto cercando di essere come loro Ognuno ha le sue caratteristiche Sarà il mister ogni volta a scegliere quello che andrà meglio per l'avversario O per il tipo di gara che vogliamo fare L'importante anche in un periodo in cui si gioca di meno è non perdere la fiducia in se stessi Continuare a lavorare e farsi trovare pronti Studia molto anche gli avversari Poi nell'arco di una stagione ci sono tanti fattori da valutare Lo stato di forma e tante cose Quindi io non sono assolutamente preoccupato Stiamo iniziando a preparare il match con il Livorno Chiaramente il nostro sguardo al momento arriva a Livorno e si ferma Non stiamo pensando a quello che verrà dopo E dopo Livorno penseremo a quella partita Io arrivando da fuori non mi sono ancora fatto un'idea Del livello delle altre squadre del campionato Quindi posso solo dire che noi stiamo lavorando molto bene Stiamo cercando di costruire la nostra mentalità E niente ci stiamo preparando per Livorno Chiaramente frustrazione perché vai vicino al risultato E poi ti viene tolto un po' così diciamo Però dobbiamo essere bravi in questo momento A trasformare tutta questa rabbia in energia positiva A metterla in campo negli allenamenti E vedremo che recupereremo tutto Grazie a tutti